L'avevamo promesso per Prog ed Intorni, Prog 2.0, per tutti gli amici di Facebook, li vedete, Elisa Montaldo, Fabio Gremo. Vai Elisa, dici le tue impressioni per questo concerto che avrà fra poco. Tanto siamo contentissimi di ritrovarci qui a Genova e di presentare il nostro disco che esce oggi, quindi i presenti al concerto. Siamo sul pezzo. Esatto, tempismo perfetto. Siamo agitati positivamente. L'avete provato. Abbiamo provato, diciamo, delle prove molto condensate perché, come sai, veniamo da un po' diverse parti dell'Europa. Ormai ce l'abbiamo messa tutta e non vediamo l'ora di suonare di nuovo sul palco. A proposito del Tempio delle Cressidre. Nella magia in cui credevo lo sai, C'era una parola da non dire mai. Usando troppo il saccadrà e la sua essenza scomparirà. E la mente di un bambino, però, può diventare un rito strano. Sacrificare una parola significa ma renderla magica. Ora sembra sciocco, ma non capisco più cos'è che può dare un valore a quello che dico e in cui credo. Oh, mia degenuità, sembrava tutto vero, finché si era piccoli, tra maghi e di incantegimi. Ora mi sento già, come se avessi fatto la mia vera volontà, l'anima non è libera. No, non mi arrenderò, cerco un passaggio per ritornare indietro. Cantando dentro me una strada, troverò voce la parola magica. Iludere è mettersi in gioco, no? Se non ho... o no? Vuoi spiegare? Sì, sì, anche, è uno dei vari significati che vogliamo dare a questa specie di parola pseudo-inventata, perché in realtà quando si pronuncia sembra una cosa, ma quando la leggi scritta volutamente un'altra. E questo è un po' il senso di quello che abbiamo voluto dare all'album, ad alcune canzoni in particolare. Una sorta di atmosfera ludica, quindi giocosa, divertente, ma che comunque stimola a prendere con un peggio un po' più scanzionato cose comunque serie che ci sono nella nostra vita, nelle nostre esperienze. In realtà c'è sempre una componente giovane, nuova, che spinge per emergere, per comunque tenersi in vita, nonostante ci sia una grossa parte che proviene dal passato, comunque con la sua storia, la sua importanza, ma che inizia a essere forse un po', non voglio dire brutte parole, però obsoleta, lasciatevelo dire. La musica va avanti, progredisce. Del resto sì, ma sta anche proprio nel senso stesso del termine con cui si designa il genere. La continuità deve essere anche, sia nelle freschezze delle idee, ma anche nella freschezza, secondo me, delle immagini. A proposito di questo splendido brano del Tempio dell'Ecclesiedra intitolato La Spirale del Vento. La musica va avanti, sia nelle freschezza, secondo me, delle immagini. Per spiegare la grandezza e la bellezza di questo pezzo, basterebbe ripensare agli sguardi che ho visto negli occhi dei componenti della band, prima di eseguire la prima volta dal vivo in concerto organizzato dall'amica Marina Montobbio e l'Angelo Azzurro di Genova. Né presunzione né tantomeno spocchio si va di bene, soltanto la piena consapevolezza di aver creato qualcosa di veramente importante e destinato, a mio avviso, ad inserirsi a pieno titolo tra le cose più belle del prog del nuovo millennio. Nella vita ho scelto di fuggire via Da ogni sicurezza, da ogni stabilità Per seguire il ciò che sembra effimero Sono l'illusione della mia realtà Non seguirmi, non cercarmi, lo potrai incatenarmi Schiverò gli inganni, te mi prenderai Sordo al mondo che sta attorno, scendo al piccolo Che in boppo sento l'occe gusto dell'oscurità Ma è soltanto un Dio, raccontate dall'umanità Vado oltre io, cerco di esplorare la mia Si è perso il senso di ogni azione Condato, riscatto, il mio potere Ma non seguirmi, non cercarmi, lo potrai incatenarmi Tutte le preghiere sono male ormai E si restringe la mia stanza, il piantoso e il tempo in casa Muto il senso esige, non resterò E di nuovo farò un orizzonte Linea di confine tra le tenebre Seguo la corretta e inovanti 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 Noi nel nostro piccolo stiamo provando anche a varcare un pochettino i confini della nicchia Per cercare di affascinare, di interessare al genere intero altri tipi di pubblico che magari non sanno neanche che esista il Progressive O comunque questo tipo di musica visionaria dove c'è più libertà compositiva, più libertà di struttura, canzone Quindi abbiamo cercato nel nostro disco anche di essere un pochettino più Non dico immediati perché questo genere non è Però comunicare che volendo la musica può essere un messaggio libero E se una persona ha la mente aperta può veramente esprimerlo in qualunque modo e soprattutto condividerlo Quindi è un gioco, è un gioco La nostra copertina è fatta per quello A proposito, la copertina grazie che l'abbiamo pubblicata è molto da unire in punto Si, si, prende proprio da uno dei giochi della settimana di mistica Quindi l'abbiamo creato noi con fatica però è un applauso Eh beh, l'autoselebrazione, l'autostima ci vuole, siamo carichi, iper casati Vuole prendere l'acquirente o comunque chi si interessa al gruppo vuole farlo giocare subito Vuole farlo entrare direttamente nel nostro mondo Prendere il tempo di anierire gli spazi ascoltando magari la musica E scoprendo un mondo nuovo che è poi quello del tempio dell'eclessitra in questo caso Io ringrazio anche te pubblicamente perché sei uno degli esponenti sui social e sui mass media che si dà più da fare per... Musica 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 Grazie a tutti. 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 A proposito, chiedere un giudizio a Richard Sinclair sull'emozionante vocalizzo che stiamo per ascoltare. Grazie a tutti. 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 Fabio, tu con la chitarra classica sei sempre... Anche in questo album ho voluto comunque infidare qualcosina. Certo. Noi ex chitarristi gradi che siamo stati insieme... Il conservatorio. Esatto. L'unica cosa che mi fa piacere aggiungere è che effettivamente ci piace trasmettere questo messaggio che anche una musica meno immediata, meno hip hop, visto che va tanto di moda, può essere comunque divertente. Ci sono degli aspetti, ritmo, melodia, fascinanti che si fanno apprezzare. La musica che deriva dal programma non è necessariamente lunghissima, noiosa. C'è del gusto, del divertimento, del piacere di mettersi in gioco. Io la chiuderei così. Quando ci siamo conosciuti abbiamo parlato dei nostri maestri, no? Adesso cominciate voi a essere dei... non ho detto che state invecchiando, però siete voi dei punti di riferimento per le nuove band che dicono ci sono questi gruppi, diamo traino, quindi mi raccomando avanti così. Grazie. Grazie. A presto. Ciao a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti per essere stati qui, per essere stati nelle nostre palle, perché non è facile, non è facile digerire tutto questo proprio nuovo. Insomma, grazie. 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 Molto atti presto. Tutto resta. www.tempiodeleclissidre.com Seguiteci, supportateci. Lì in fondo c'è il nostro merchandise. Ringraziamo Black Widow, ringraziamo Marina Montoppio per questa serata! è un piacere inizialmente grazie 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 grazie